Buongiorno, siamo qui in una nuova puntata di Telefisco 2022, io sono Laura Ambrosi e oggi parleremo della decadenza dal potere di accertamento. Si tratta di un argomento che soprattutto interessa particolarmente i contribuenti in quanto sperano sempre quando ricevono un atto impositivo che quest'atto sia nullo perché è tardivo. Purtroppo con l'emergenza sanitaria sono stati fatti numerosi interventi che hanno in un qualche modo coinvolto anche i termini di decadenza. Inoltre sono state introdotte a regime delle modifiche che hanno ulteriormente modificato a seconda del periodo di imposta questi termini di decadenza. Questo quindi comporta che occorre innanzitutto conoscere attentamente la normativa per capire se un atto sia tempestivo o meno. Una normativa che ad oggi risulta particolarmente frammentaria e quindi potrebbe necessitare di un controllo più approfondito proprio a seconda della tipologia del tributo contestato, del tipo di accertamento, della procedura seguita dall'ufficio e anche a seconda del periodo di imposta.